Benvenuto in Senegal, Mr. Tal. Mr. Tal, un autografo, per favore. Mi chiamo Yao. Come dormi a casa? Non lo so, Mr. Tal. Com'è che si chiama il tuo villaggio? Canel, Mr. Tal. Arriviamo stasera e torniamo domani. Certo, amico. Mi chiamano Nicky Lauda. Non sei di qua, vero? Come non sei? L'ho capita subito. Perché hai affrontato questo viaggio da solo? Che rappresento io per te? Il viaggio di Yao, dal 4 aprile al cinema. Grazie a tutti.